Nel nostro impegno per ridurre l'impatto ambientale e abbracciare fonti di energia pulita, i pannelli solari sono diventati un simbolo di innovazione e sostenibilità. Ma come funzionano esattamente? Questo video esplorerà il processo di cattura dell'energia solare attraverso i pannelli fotovoltaici, trasformando la luce del sole in elettricità utilizzabile. I pannelli solari, noti anche come moduli fotovoltaici, operano grazie al principio fotovoltaico. Questo principio sfrutta l'effetto fotoelettrico, scoperto da Albert Einstein, in cui la luce solare colpisce determinati materiali e libera elettroni. Questi elettroni in movimento generano una corrente elettrica, creando così energia elettrica utilizzabile. Sono costituiti da celle fotovoltaiche, che sono realizzate principalmente in silicio, un semiconduttore. Il silicio viene trattato in modo da avere un'area EP, e positiva, e un'area EN, e negativa, creando un campo elettrico all'interno della cella. Questo campo elettrico è essenziale per il funzionamento delle celle fotovoltaiche. Quando i fotoni di luce solare colpiscono la superficie della cella fotovoltaica, essi possono fornire l'energia necessaria per liberare gli elettroni dalle loro posizioni originali nel semiconduttore. Questi elettroni liberati creano una corrente elettrica che fluisce attraverso la cella. La corrente elettrica generata dalle celle fotovoltaiche è inizialmente una corrente continua DC. Tuttavia, poiché la maggior parte delle nostre apparecchiature domestiche e industriali utilizza corrente alternata a acquistare, questa corrente continua deve essere convertita in corrente alternata mediante un dispositivo chiamato inverter. I pannelli solari possono essere connessi in serie o in parallelo per creare sistemi fotovoltaici più grandi. La connessione in serie aumenta la tensione totale, mentre la connessione in parallelo aumenta la corrente totale. Questi sistemi possono essere dimensionati in base alle esigenze energetiche specifiche, dalla piccola produzione di energia domestica all'installazione su larga scala. L'energia elettrica generata dai pannelli solari può essere utilizzata per alimentare le abitazioni, le aziende e le istituzioni. L'energia in eccesso può essere immagazzinata in batterie per l'uso notturno o in periodi nuvolosi, o può essere rimessa nella rete elettrica, generando crediti o contribuendo all'approvvigionamento energetico locale. I pannelli solari rappresentano una soluzione fondamentale per affrontare le sfide dell'energia e dell'ambiente. Il loro funzionamento, basato sull'effetto fotoelettrico, converte la luce solare in energia elettrica pulita e rinnovabile. Mentre la tecnologia continua a evolversi, i pannelli solari stanno diventando sempre più efficienti ed economicamente accessibili, contribuendo a plasmare un futuro più sostenibile e a ridurre la nostra dipendenza dalle fonti di energia fossile. Grazie. 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 Grazie.